Ciao ragazzi, mi chiamo Giovanni e ho acquistato anch'io InfoMarketing per Babbuini, mi sono babbuinizzato anche io e ringrazio mille, ringrazio tantissimo Naike, il mio contatto diretto, vi saluto, ciao Naike e niente, vorrei dire due parole del corso innanzitutto, corso veramente bello, cioè uno perché è fatto bene, nel senso che ormai i corsi di bibiche sono semplicemente da collezionare io ho acquistato vendita telefonica d'assalto e questo corso per la vendita di informazioni è veramente un upgrade per così dire, un salto in avanti molto molto potente e importante perché uno per i paradigmi nuovi che smonta il big sono molto forti io vi dico, avevo fatto un anno di lettere, un anno di università quindi avevo anch'io quel paradigma che più certificazioni hai, un po' impresso dai miei genitori che più certificazioni si hai, più sei importante, più puoi guadagnare eccetera ed è importante ovviamente, come dire, è stato importante smontare questo paradigma nel senso che comunque anch'io, ammetto che non ero consapevole ma ce l'avevo nel senso che, e per me questa cosa qua mi portava ovviamente a non vendere ad alto prezzo cioè a considerare l'alto prezzo come qualcosa di cattivo non so se mi spiego comunque, corso molto bello quindi se siete un po' indecisi, secondo me dovete fidarvi, ok? del vostro venditore o di big, ok? quindi compratelo ne vale assolutamente la pena, ok? io non ci ho pensato troppo perché come vi dico, i corsi del big sono validi dopo 20 telefonica d'assalto non c'è neanche da parlarne per me per la mia esperienza personale quindi fateli questa cosa qua un'altra cosa che volevo appunto dire e condividere per chi non l'ha ancora visto sono i bonus che sono veramente belli quindi i bonus di Michael è qualcosa che un po' ti spiazza uno perché vedi un uomo che ne ha viste tante, ne ha fatte tante e adesso va bene, è in pace nella sua vita però capisci effettivamente un businessman che ha morso tanti soldi quindi questa cosa qua è molto per me è stata molto bella anche da vedere, no? una persona che si è aperta quindi siccome i bonus non ci sono per sempre questa è una buona ragione per per ovviamente approfittarne e godersi veramente questa chicca e quindi niente, ringrazio staff per il corso perché è veramente fatto bene non c'è nient'altro da dire insomma non c'è nient'altro天 greater LA PERSONA